Nel precedente episodio di Dead Space Non ti saluto più Che mince sei? Ciao bello! L'episodio di Dead Space Dead Space come se piovesse Se Dead Space stasse Controllalo Ok dobbiamo tornare indietro e andare al cannone perché dobbiamo togliere quella merda che scelta davanti Siamo pronti? Non sparare, non sparare, non sparare Lascia Ciao eh Adesso Salve Siamo qui Riuniti Salve Ah adesso prendono gli ascensori È morto È morto È morto Adesso prendono gli ascensori Si sono evoluti Ricarica Stanno dando un botto di crediti che non posso spendere Allora dove cazzo stava il negozio? No però se mi sbaglio abbiamo un nodo energetico Beh è morto che non è il frattempo Credo Questo è... Questo è... No è morto tipo Si è morto, non sparare Dobbiamo andare per di qua Oggi ecco qua di escire un mostro eh Ve lo sento proprio Sto scherzando Non vuoi mai escire un mostro nell'ascensore E' stata di cazzo? No E allora che cazzo? Aspetta però prima quella è la presa Ascensore che non lo sanno Dici che hanno imparato talmente tanto bene Che fanno tipo i maggiordomi che stanno negli ascensori Ma quale più non desidera andare? Eccola C'è un turmico Si si però vai con me Qua Sto tranquillo? Uuuh mamma mia Mamma mia Aspetta scassa tutto Kung fu fighting Trascinano A F Abbiamo distrutto tutto vabbè No Esatto No Ok 3 Premi 3 Ricarica Ma ricarica già Aspetta lì se c'è qualche altra cassa qua dietro tipo No Un cazzo dobbiamo andare per di là Salve Di qua siamo venuti Ah ok C'è salvo No ah il cannone Calone 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 No Sbagliato Calone Ma si Ma si Ma dai Mancela Calone Sono le caglietelle Di Non Un pino di energia Effetto vitamina Uuuh C'è Oddio Aspetta 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 Così già di Così già non sto camendo niente per sparare anche con tutte e due ragazzi sai com'è? qualcosa mi dice che tre bene ma non riesco e poi queste cose già che costruiscono dei brufoloni giganti spara al brufolone spara che stiamo tipo grepando si si siamo morti ormai siamo morti perché si sta facendo sfido ma no ok guarda si lo so si sposta lo spado e mentre arriva il proiettile allora questa navita arriva poi è bene perché i proiettili di questo sono infiniti e guarda le quasi distrutti più o meno smettere devi giocare a Toto 2 si lo sappiamo ma siamo andati ormai facciamo anche riluppare 800 volte non è credito giusto? è giusto abbiamo di trovare lo sicuro ah boom mordi 8% signori si c'è da fare l'8% e hai vinto tipo un mongolino d'oro il tapino si ma che ti fa non riesco ad ammazzare uno uno è andato non riesco ad ammazzare uno cheat entri se la chiama mamma mamma 2% signori prossimo colpo siamo quasi morti l'hai quasi ucciso eh pronto se ne sei reso conto ottimo bravo quanto fa schifo questo posto da un anticipo mamma ok questo 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 bravo ma faccio che questo sta sparando comunque qualcosa ma vuoi da morire ma Anthony prela panico no 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 qua 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 ok perché stiamo rinforzando a lui no perché è uno vento ultimo attenzione spara questo spara questo spara questo ok ok ammazzato spara è l'ultimo ti prego ci sarà il 2% sei un genio un genio di male spara 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 tutti i due se ce l'hai fatta ce l'hai fatta ce l'hai fatta ce l'hai fatta basta basta ho 2% ho fatto ho 2% che schifo è però si c'hai più culo che animo c'hai oh ok cosi bello è schifo non avete la cazzola di salvataggio no così a cazzo fai sentire che dice non avete la cazzola di salvataggio rispondete dannazione si bella sta cazzola di salvataggio ciao no no non puoi spara ah ah oh 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 come on oh rega tutto molto bianco e novinoso vorrei poter parlare con qualcuno si qui va tutto a pezio pure qui non ti raccomando oh oh è ma un del vino isaac cavalloro isaac mi senti si cavalloro guardate sta crepando no dove hai ritenuto cercavo di sopravvivere a fatica ho trovato dei medicinati mi sono dato una sistemata ascolta ho deciso di annullare la missione fanculo la CEC e la gerarchia dobbiamo andarcene da qui fosse voluto credo di aver trovato una navetta sul ponte dell'equipaggio andiamocene il registro di volo dice che serve un nuovo nucleo energetico ma credo che quello della Valor andrà bene a posto qui eh dopo lo parlo mi sto dirigendo là vedrò di salire a bordo ci vediamo là ciao ci vediamo là Emmond passo in più dove ci accoglie se quello che dice della navetta è vero forse possiamo ancora andarcene da qui raggiungi la steva e cerca di aiutare a Emmond nelle sue condizioni potrebbe non restargli molto tempo in frattempo noi sappiamo sti grazie di Emmond parlare di Emmond cioè da che è mondo è mondo dai no no di un simile eccolo non lo sparare sull'apaccia non lo sparare sull'apaccia ah vabbè fa lui no 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 non è mai posto un pack di stasi... vendilo! ma si esce? quindi dobbiamo andare l'altra volta qua, vai! si esce? si siamo entrati e usciti non devo andare di qua fai controllo, si, dobbiamo andare di qua perché non dove c'entra? oh no, ok, ecco prossimo capitolo, è stato molto breve questo qua capitolo 8, il cerchio di salvaggio è completato ma come si vuole salvare? ho messo proprio un po' di lusso, proprio della guerra, proprio salta giù uno spaccano cosmico capitolo 9, morto all'arrivo sono andato all'idropenica no, stiva carlo stiva carlo, usa l'arma cinetica per impirchiofare i nemici what? per impirchio... cosa? che vuol dire non per chioffare? per chioffare è che quando tu spari quello fa le bollicine e ti esce il polpo e impirchioffi va bene che tanti polpi fanno un nemico questo abbiamo detto tanti polpi vogliono fare... metti pausa e concludiamo la puntata qui se il video vi è piaciuto siamo arrivati finalmente a capitolo 9 commentate e vi piace aggiungete il video preferiti e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo episodio di Dead Space ciao bebe!